D'accordo, allora diamo inizio alla convocazione, in situa congiunta, delle commissioni consigliari permanenti, patrimonio e partecipazioni, interventi in campo economico, tributario, bilancio e lavori pubblici, ambienti, interventi su viabilità e traffico, quindi si discute della proposta di libera per la porga della convenzione tra il Comune di Parma e la società per la mobilità e il trasporto pubblico, SMTP-SPA, in relazione alla gestione del contratto di servizio TPL nel bacino di Parma fino al 31-12-2013 e attivazione della procedura di gara a doppio oggetto. Niente, allora lascio la parola all'assessore Gabriele Folli che ce l'illustra. Grazie. Grazie Presidente, grazie consiglieri. Allora, vi illustro e vi illustrerò con l'aiuto anche di dirigenti del SMTP, l'amministratore unico Belli e il direttore Brizzi insieme ai dirigenti del Comune Ferrioli e Barani, faccio una breve introduzione io per spiegare le motivazioni che hanno portato a questa delibera. Allora, nella delibera che presentiamo oggi in commissione andiamo a definire sostanzialmente due cose. Una è quella che i due soci di TEP e SMTP, che sono a 50% in entrambe le società comune e provincia, decidono di affidare con una gara a doppio oggetto il servizio di trasporto pubblico e per fare questo decidono contestualmente la seconda cosa che è una proroga. quindi dal servizio SCADA, l'affidamento a TEP SCADA del 31-12, viene stabilita una proroga della durata di un anno per permettere ai soci, a SMTP di stabilire la qualità della gara, cioè i criteri con cui verrà fatta questa gara. Faccio una breve storia, insomma, da quando noi siamo entrati all'interno del comune questo inizio di estate, una delle prime attività che abbiamo fatto è stata appunto quella di prorogare di sei mesi l'affidamento a TEP ed era l'ultima, diciamo, la penultima delle proroghe disponibili, perché il servizio appunto scadeva il 30 giugno di quest'anno. Provole di sei mesi che scade quindi al 31-12, in questo lasso di tempo abbiamo valutato insieme al socio, insieme ad altro socio che è la provincia, insieme a SMTP, quali erano le opzioni, diciamo, in campo con le possibilità di tipologie di gara che avremmo, diciamo, portato avanti nel corso del prossimo anno. Le opzioni in campo alla fine erano fondamentalmente quattro, una era la fusione, l'altra l'affidamento in ausa, poi vi era la gara a doppio oggetto che è quella che abbiamo scelto e la gara tradizionale. Fondamentalmente non abbiamo mai avuto nessun tipo di preclusione ideologica verso nessuna delle quattro tipologie, abbiamo analizzato tutte queste opzioni con insomma due o tre criteri fondamentali, cioè noi interessava come Comune di Parma mantenere un controllo pubblico sulla società del trasporto pubblico, perché è una società che è a diretto contatto col cittadino e di cui ogni giorno abbiamo a che fare, insomma nella gestione attuale ci capita tutti i giorni di avere, interagire con quelli che sono i dirigenti di SMTP e TEP per le esigenze che provengono dal territorio, quindi insomma anche esigenze diciamo non banali perché non è questa la parola corretta, però anche esigenze proprio di piccoli spostamenti o di gestione di emergenze o altre situazioni vengono gestite in modo molto rapido grazie anche al rapporto che si crea con le società che sono qui presenti a Parma. Quindi questo era uno dei criteri che ci stava più a cuore e volevamo mantenere anche per il futuro dell'affidamento del trasporto pubblico. L'altro criterio è quello di valorizzare e mantenere diciamo quella che è il patrimonio di TEP che fondamentalmente è in gran parte costituito da quelle che sono le risorse umane presenti all'interno e diciamo su questi criteri noi abbiamo operato la scelta insieme diciamo al socio provincia e abbiamo ritenuto che la gara doppio oggetto fosse quella che fornisse diciamo le maggiori garanzie da questi punti di vista. Le altre opzioni possibili erano quella della fusione, cose che non ci ha visto favorevoli all'inizio e in una fase successiva nemmeno al socio della provincia. Fusione poteva essere l'ipotesi di accorpamento con seta che era una delle ipotesi caldeggiate anche insomma a mezzo stampa da altri enti e che ha visto insomma probabilmente questa esperienza non particolarmente fortunata anche insomma visto le risultanze che si sono poi avute. L'altra ipotesi era quella dell'affidamento in auso, quindi l'affidamento diretto da parte di comune provincia e questo per noi comportava dei vincoli nel senso che avremmo fondamentalmente avuto all'interno del monte dipendenti del comune di Parma in qualche modo introitare anche una parte, cioè il 50% di quelli che erano i dipendenti di Teppe. Questo per noi comportava dei vincoli e non tecnicamente, non era una soluzione per noi possibile anche se poteva essere una di quelle che ci dava la maggior garanzia di controllo. L'altra gara invece che anche lì poteva essere una possibilità ed è stata anche questa valutata e devo dire che insomma tra queste tre gare in auso, doppio oggetto e tradizionale vedevamo comunque in tutte e tre pregi e difetti e benefici. La gara tradizionale aveva diciamo da un lato la possibilità di affidare direttamente cioè poteva risolversi in due maniere o affidamento diretto nel caso a Teppe nel caso vincesse la gara Teppe, oppure affidamento a un esterno e quindi perdita del controllo da parte dei soci pubblici. Noi adesso andiamo a definire con questa delibera quelli che sono questi due atti quindi definire che facciamo una gara doppio oggetto e che facciamo una proroga. La qualità di questa gara, cioè come andrà strutturata, quali sono le quote di azioni che verranno cedute, come verranno stabiliti quelli che sono i vincoli per la garanzia dei dipendenti e tutte queste altre cose saranno oggetto di un tavolo tecnico che inizierà a partire da gennaio e che vedrà proprio coinvolti Teppe, no scusi, questa cancellata non è Teppe, SMTP, Comune e Provincia quindi lavorare insieme per definire quelli che sono i criteri per fare la gara. Uno dei primi passaggi, proprio perché in questi giorni è emersa la preoccupazione da parte dei sindacati che questa fosse una privatizzazione, in realtà uno dei primi passaggi obbligati poi dopo vi spiegheranno bene i tecnici, è proprio quello di concertare con le parti sociali, con i sindacati quelli che sono i vincoli da stabilire per quelle che sono le garanzie ai dipendenti. Una volta definita, diciamo, quella che è i criteri di gara, quindi la qualità di come verrà strutturata questa gara si andrà di nuovo in consiglio, quindi verrà fatta una successiva delibera che verrà sottoposta all'attenzione di voi consiglieri. E adesso lascerei la parola all'architetto Belli che vi illustra, diciamo, magari integra quello che non vi ho detto io e poi anche i dirigenti diranno qualche parola poi, insomma, siamo qua per le domande. Grazie. Bene, ringrazio il professor Folli saluto tutti i componenti del Consiglio Comunale qua presenti in Commissione ne approfitto, se permettete, per cercare di dichiarire visto che il Consiglio Comunale è rinnovato in larga parte e comunque per chiedere un po' il ruolo e le finalità di SMT in maniera brevissima perché il trasporto pubblico a Parma è per antonomasia TEP e questo è vero. Però da diversi anni ormai a questa parte vi è stata una scissione di ruoli tra il soggetto gestore che è TEP-SPA ma che è TEP-SPA a seguito di una gara intervenuta nel 2004 che ha vinto e in seguito alla quale ancora oggi in base a rinnovi e poi proroghe è il gestore del trasporto pubblico locale. SMTP-SPA della quale io sono amministratore unico e che è partecipata in pari quota come diceva il professor Folli da Comune e Provincia è l'Agenzia per il trasporto pubblico è diciamo con lei che da un lato programma assieme agli enti locali Comune e Provincia ma ha in capo la responsabilità programmatoria sono anche concreto e pratico se TEP deve modificare una linea deve modificare tutto il servizio pubblico locale o una fermata e ne discutiamo noi col Comune e con la Provincia e poi gli aspetti urbani ed extraurbani però poi SMTP che in quanto agenzia delegata dagli enti locali a CIO ordina TEP modifiche, cambiamenti, variazioni implementazioni, riduzioni e quant'altro dall'altra parte SMTP è la proprietaria patrimoniale quindi la proprietaria dei beni immobili e delle reti di proprietà cioè che dagli enti pubblici sono passati appunto a SMTP questo è stato fatto allora appunto per rendere possibile l'inizio di una fase di privatizzazione del servizio del trasporto pubblico locale e per poter fare una gara non si può essere controllori e gestori e quindi è stata fatta questa decisione che è ancora oggi attuale e che a mio giudizio rimarrà attuale anche nel prossimo futuro perché gli ultimi interventi governativi vanno comunque sempre in quella direzione poi sono incocciati contro il referendum quindi con decisione popolare che ha stabilito alcune cose la nuova legge o il decreto approvato in sede governativa poi è stato cancellato dalla Corte Costituzionale ma a mio giudizio ci sarà comunque un percorso che con regole con determinazioni differenti dovrebbe andare verso una liberazione di un servizio e comunque un servizio che di per sé ha caratteristiche per poter essere messo a gara cioè voglio dire è comunque un servizio appaltabile e sul quale al di là di un controllo pubblico sulle finalità sulle modalità sui sistemi e su come deve essere svolto a tutte giudizio personalissimo a tutte le caratteristiche per poter essere oggetto di gara gara che ci apprestiamo a rifare ho detto rifare perché come sapete è già stato fatto un esperimento nel 2011 che andò deserto però le possibilità le ha già elencate le sue folli non le ripeto io però ritenevo allora ritengo oggi che la gara a doppio oggetto sia quella maggiormente tutelante uno per la proprietà pubblica perché rimarrà maggioranza pubblica quindi decisioni strategiche decisioni importanti decisioni che coinvolgono il ruolo importante che un trasporto pubblico ha oggi e forse anche più di ieri con la situazione oggi attuale rimarrà comunque in mano agli enti locali non viene né svenduta né abdicata né passata ad altri questa questa capacità decisionale verrà ceduta invece una una potere gestionale decisionale ma relativo alla gestione singola la gestione spicciola che sempre a mio modestissimo e personalissimo parere è un aspetto anche questo che io vedo anche in questo caso positivo ormai avendo un pochino penso di esperienza nel TPL avendo conosciuto un mondo che come tutti i mondi è fatto è particolare ha regole sue e ha caratteristiche appunto tipiche di questo settore la la gara doppio oggetto che il consiglio comunale dovrebbe deliberare nella prossima seduta consigliare è appunto una gara che deriva il nome doppio oggetto da due procedimenti diversi e altrettanto importanti il primo oggetto è la qualità di socio viene verrà venduta una quantità di azioni che il consiglio comunale il consiglio provinciale tutte le cose che vi dico adesso saranno soggette poi a parte il lavoro che ci apprestiamo a iniziare il lavoro tecnico politico di predisporre questo tipo di documenti questo tipo di decisioni che poi però saranno sottoposte e dovranno essere approvate dal consiglio comunale e dal consiglio provinciale quindi prima cosa qualità di socio ad un privato che potrà essere dall'1 al 49% perché mi sembra che la volontà di socio è quella di mantenere la maggioranza e quindi fino al 49% potranno venderla e quindi in questo senso noi riaggiorneremo la valutazione che venne fatta precedentemente ma che oggi è sicuramente da riaggiornare e da modificare perché è passato un po' di tempo ma soprattutto è cambiato un po' il mondo penso di poter dire dall'ora ad oggi e quindi alcune valutazioni in questo senso dovranno essere riviste riponderate quindi sulla base di una valutazione economica verrà posto un prezzo a base per ogni singola azione di TEP a questo prezzo l'offerta potrà essere solo in aumento l'offerente dovrà offrire pari o un prezzo aumentato dall'altro il secondo oggetto è la messa a gara del servizio oggi TEP esercita il servizio di trasporto locale avendo un corrispettivo stabilito sono varie cose trasporto urbano trasporto urbano altre cose però diciamo che c'è un compenso chilometrico per ogni chilometro che svolge di trasporto pubblico locale percepisce un corrispettivo verrà messo a gara un nuovo corrispettivo e su questo l'offerta dovrà essere invece in riduzione in diminuzione come tutti gli appalti pubblici non prevedono offerte in aumento ma solo offerte in riduzione questo per i due oggetti della gara nella gara precedente gli enti locali decidettero di vendere una quota importante ma riservandone una parte di questa quota venduta riversandone in aumento di capitale quindi la dotazione finanziaria è aumentata a TEP e SPA e questo potrà essere scelto non scelto ovviamente dagli organi competenti dell'amministrazione pubblica provinciale e comunale e quindi potrà essere deciso se ricapitalizzare in parte TEP che comunque ha un capitale sociale non piccolo ma in ogni caso questa è una è una scelta che gli enti faranno si dovrà stabilire anche precisamente quali sono i poteri gestionali da affidare al privato con quali maggioranze si assumono certe decisioni con quali altre maggioranze si assumono altre decisioni come si governa l'ente però la legge dice il paternariato perché noi chiamiamo gara del progetto sinteticamente ma la denominazione corretta è paternariato pubblico privato istituzionalizzato è una normativa c'è europea che definisce questo e dice però chiaramente che la gestione spicciola quotidiana deve essere passata deve essere in mano al soggetto privato per il quale richiederemo in fase di gara anche che di molto di avere queste capacità non potrà venire a fare offerta una società che ha fatto fino ad ora dell'altro e neanche potrà venire a fare offerta una società che ha grosse capacità finanziarie ma che non ha know-how e non ha conoscenze nel settore del TPL quindi l'altra volta e penso in questa volta faremo una gara divisa in due tempi il primo tempo è accogliere pubblicizzare e poi accogliere manifestazioni di interesse quindi determinando dei palletti cioè una griglia chiedendo dei requisiti che siano rispettati e le società le imprese le società del settore che saranno in grado che saranno interessate purché siano in grado di accogliere o di rispettare la griglia dei requisiti minimi diciamo che noi chiederemo potranno fare richiesta di essere invitati una volta fatta questa prima scrematura questa prima selezione verranno inviate appunto a queste società prequalificate tutta la documentazione relativa alla gara vera e propria e su questa dovranno presentare offerta la gara è una gara che diciamo sicuramente riveste una certa importanza noi riceviamo ogni anno 24 milioni e mezzo dalla regione per esercitare il TPL circa 4 milioni dal comune di Parma e siamo a 28 un milione e mezzo vado adesso faccio un po' di numeri tondi per capirci dai comuni della provincia di Parma e quindi siamo 24 28 e mezzo siamo intorno ai 30 milioni di euro il tempo di validità di questa gara con le nuove norme potrà essere di 10 o 7 anni e per TEP sarà di 7 ma non per vari motivi perché avendo TEP adesso non voglio entrare in troppi tecnicismi perché magari mi dite quando mi devo formare ma con TEP ha servizi subaffidati e quindi sicuramente sarà di 7 e può essere rinnovato per la metà del tempo quindi potrebbe essere 7 più 3,5 quindi capite che sono comunque tempi lunghi tempi lunghi che se moltiplichiamo 30 per 10 anni sono 300 milioni di euro e quindi è una gara di tutto rispetto a mio giudizio da gestire con tutte le cautele del caso e da ponderare bene in quanto viene affidato questo servizio a un soggetto che pur avendo all'interno della propria compagine sociale gli enti pubblici che hanno la maggioranza però ovvio che le regole contrattuali come tutte le regole contrattuali poi una volta stabilite vanno rispettate io non so se penso non vorrei dilungarmi molto di più penso di avervi illustrato tutto quanto però in caso ovviamente in caso di domande o di chiarimenti cercheremo di fare del nostro meglio grazie io chiedo all'insegnere Ferrioli e all'insegnere Barani se vogliono aggiungere qualcosa o se no passiamo direttamente alla fase delle domande ditemi voi siamo a posto allora direi che a questo punto siamo qui per rispondere alle domande sì se vogliamo se volete fare delle domande specifiche sì per il seno una brevemente per cercare di capire meglio siccome avete parlato di valore e di azioni che verranno poi scambiate col privato comunque alienate verso i privati allora volevo capire nel merito della valutazione lei diceva architetto Belli che verrà ristabilito il prezzo allora cercavo di capire chi valuterà in questo caso se c'è una commissione ad hoc se l'incarico viene dato a che so a qualche consulente esterno o comunque in quale modo viene stabilito questo prezzo poi magari la domanda successiva sarà quella di capire meglio siccome parlava dei percentuali da alienare da 1 a 49% con il pacchetto di maggioranza resterà in mano sì ma comunque ai due soci se ho capito bene altrimenti per quanto riguarda la seconda che è più semplice è più immediata io ho detto che i soci potranno vendere dall'1 al 49% perché hanno deciso di mantenere la proprietà pubblica la maggioranza pubblica dopodichè si sentiranno i soci se vorranno l'altra volta è successo che di fronte ad una venda del 49% ognuno degli altri soci si manteneva il 25,5% penso di essere un facile profeta pensare che possa succedere comunque una partecipazione paritetica dei due enti locali paritetica appunto però sarà oggetto di discussioni di confronto tra la provincia e il comune prima seconda risposta prima risposta il valore della società è sicuramente valutato noi la volta scorsa incarichiamo una società un advisoring esterno e penso che faremo altrettanto questa volta perché facciamo una gara europea che mi auguro addentemente di non dover rifare io sono piuttosto diretto ma non perché non la voglia fare ma perché allora c'erano condizioni economiche che richiedevano una gara europea io oggi penso che dovendo aggiornare un lavoro che comunque ha una struttura una sua struttura e una sua validità ovviamente saremo con importi bene al di sotto di questo e poi penso anche di poter avvalerci di collaborazioni separate e non più univoche e quindi di rimanere al di sotto della gara facendo comunque delle gare delle offerte e avvalendo il giumo di consulenza di società specializzate che vadano a valutare il valore delle azioni attuali del TEP altra domanda tanto per capirci nella bozza di bilancio di previsione 2013 è stata iscritta una somma che per il 2012 era di 6 milioni parlo del Comune di Parma ma per analogia immagino che sia il corrispondente quota della provincia di 6 milioni e quindi quest'anno ridotti a 5,5 allora precisate com'è per capire volevo solo capire alla fine quella previsione a quante quote corrisponde di una rata di interpretazione della stampa in realtà la cifra che è stata messa a bilancio era di 4 milioni sul 2013 sul 2013 cioè su 2014 su 2014 giusto anche perché la gara diciamo si spletterà nel corso dell'anno 2013 per il 2014 è stato messo in bilancio 4 milioni di euro altre domande era stata una stima sulla stampa è uscito un valore sbagliato perché qualcuno ha letto 2013 e c'era invece i valori immobiliari c'è ancora nel bilancio che andrete ad approvare a discutere immobiliari c'è un valore di 5 milioni e mezzo ma non è quello lì è di qualcos'altro devi andare invece a vedere il 2014 dove c'è 4 quel 4 lì deriva dai conteggi vecchi di come non vecchissimi nel 2011 addirittura come si era usciti e poi diciamo una previsione un po' ribasso non tanto per scontare le azioni ma per mettercene di meno circa come quote circa sul 40% è stato fatto così il conto ragioneria l'ha fatto così poi sono tutte le decisioni che appunto dovranno essere prese e approvate in consiglio comunale non con questo giro ci sono ancora altri interventi io volevo sapere se questa 5% di ricapitalizzazione potrebbe essere cioè visto che l'ultimo bando è andato deserto l'ultimo bando volevo sapere se questo 5% secondo lei vista la sua esperienza è effettivamente utile alla società o se questa percentuale può variare o se volevo sapere da lei cosa se ne pensava di questo 5% e di che cosa si può fare in questa percentuale qui in generale sicuramente una società di capitali un S.p.a maggiormente è ricapitalizzata e più contenta è questo quindi è una facile deduzione io dicevo prima che TEPP è comunque una società capitalizzata non è una società con un patrimonio con una capitalizzazione bassa allora si decise di dare ulteriore capitalizzazione io devo dire che rispetto ad allora quando Iotti prima faceva riferimento al valore che era penso quello più bilanci di comune province sinceramente non li conosco anzi non li conosco proprio però derivava dalla valutazione che allora fu fatta oggi io penso che uno la riduzione dei contributi per provvedimenti a cascata nazionali che quindi diventano regionali eccetera eccetera la situazione economica la conosciamo tutti qual è sicuramente si può prevedere per ora purtroppo un trend che va in diminuzione non so fino a quando e non so di quanto come importo totale e quindi la valutazione complessiva dell'azienda di un'azienda di trasporto pubblico oggi io penso però poi ci vedremo con i tecnici bene nel concreto sia destinata a diminuire come valore non a documentare e quindi in questo senso penso che la valutazione prudenziale di ridurre da 6 milioni a 4 milioni a prescindere dalle decisioni che oggi non ci sono ancora relativamente alla quota azionaria da mettere in vendita sia per mia valutazione soggettivissima comunque una stima prudenziale di aver ridotto di 2 milioni la quota di previsione direi che è abbastanza realistico poi il nostro complessivo impegno di SMTP soprattutto dovrà essere quello di rendere una gara appetibile al massimo è il TPL un settore un po' anomalo come vi dicevo anche prima dove ci sono player o aziende piuttosto grandi e tra l'altro noi non vorremmo neanche che partecipassero alle aziende troppo piccole perché non vorremmo vendere la quota quella quota che si deciderà a dei soggetti che non hanno struttura importante cioè sufficiente per venire a lavorare in termine una società che comunque è riconosciuta è universalmente o perlomeno localmente riconosciuta come una buona società nel panorama del trasporto pubblico locale quindi sicuramente cercheremo di salvaguardare questo e nel contempo un connubio un po' difficile come punto di equilibrio da trovare di però avere una partecipazione alla gara una cosa sempre sul tema è una delle cose degli aspetti positivi che vedevamo proprio nella gara doppio oggetto è quello di introdurre un partner che appunto sia del settore una società che porti delle esperienze delle conoscenze e anche una nuova dinamicità all'interno di un'azienda che porti un suo contributo operativo non solo dei soldi non vogliamo limitarla a delle quote societarie ma anche di avere un aspetto operativo che porti appunto del know-how all'interno dell'azienda io volevo fare un'altra domanda visto quindi che comunque apriamo diciamo la possibilità un'azienda quindi del settore di entrare all'interno di una società già confermata o comunque riconosciuta come TEP ho letto da qualche parte che dove si dice che questo tipo di gara potrebbe anche invogliare magari società non così all'altezza o che rischiano di pregiudicare la qualità del servizio cioè non capisco perché un'azienda che ha l'economicità per ricapitalizzare magari del 5% sto dicendo in base all'altra volta dovrebbe comunque invogliare una società che non ha interesse nella qualità del servizio o comunque a cercare di migliorare il servizio proprio per ritornare di questo capitale io condivido questa osservazione ma però vorrei magari ci esprimiamo o intendo voglio sicuramente aver capito bene allora sicuramente una quota di ricapitalizzazione se sarà deciso dai consensi potrà essere fatta ma la quota messa in vendita penso di poter dire che non sarà il 5% sarà molto maggiore quindi ha maggior ragione io personalmente penso che dovrebbe essere messa in vendita una percentuale elevata perché perché al di là della necessità degli enti lasciamo le perdere per un secondo ma non sarebbe comunque conveniente delegare la parte gestionale che pur vogliamo delegare a soggetti capaci però se estremizzo per capire per spiegarmi per cercare di spiegarmi se vendiamo il 5% se vendessimo il 5% uno che arriva e gli viene conferito poteri gestionali alla fine se gestisce anche molto male ci rimette il 5% dell'eventuale perdita se invece se invece gli conferiamo gli doniamo il 45% o il 49% per arrivare all'altro eccesso anche lui sarà investito dalle conseguenze di una sua mala gestione quindi io penso che poi il punto di equilibrio come sempre andrà trovato e lo troveremo ragionando assieme assieme ai due soci però non sarebbe a mio giudizio una scelta lungimirante vendere una quota molto piccola allora converebbe proprio non farla neanche quindi forse magari cercando di capire anche io meglio quello che diceva appunto il collega Furfar e lei voleva vedere questo concetto quindi la futura gara non andrà a influire sulla possibilità da parte di comune e provincia di andare a decidere sulla qualità del servizio sul discorso del mantenimento delle risorse umane e anche faccio ipotesi così banali anche sul numero e sulla la potenzialità delle linee delle tratte ecco quindi ci sarà un potere decisionale forte ancora una governance ma la parte di provincia e comune per la gestione territoriale di questo servizio è importante prima mi sono dimenticato un altro aspetto che diceva il consigliere e cioè sul fatto che una società di piccole dimensioni venga a io penso che sarebbe negativo che una società di piccole dimensioni venisse a cioè vincesse questa gara ma non di piccole dimensioni perché penso che debba essere enorme la dimensione però mi è appunto così intendiamo con piccolo altro prima di tutto perché noi abbiamo detto che faremo una gara in due fasi quindi la prima fase è quella della manifestazione di interesse e lì metteremo delle caratteristiche dovrà essere biondo con gli occhi azzurri o mora con gli occhi scuri quindi cercare e lì stabilire i paletti ed è una griglia che deve essere rispettata per poter partecipare alla seconda parte della gara io penso che sinceramente non vedo benefici dal fatto che vengano di te ma io quando dico piccolo dico più piccola di te non voglio dire che deve essere per forza enorme io dico le piccole e molto piccole vanno secondo me perché non ci portano secondo me il valore aggiunto hanno un know-how che è riferita a dimensioni che non sono queste venendo invece alla domanda del Presidente sicuramente rimane in capo agli enti locali le decisioni perché qui c'è uno strano uno strano nel senso una coincidenza di ruoli da un lato il Comune e la provincia sono soci di TEP quindi lì rivestono qualità di soci e decidono le politiche societarie di TEP e di SMTP ma dall'altra parte sono enti locali la potestà di decidere sulle linee sulle frequenze sull'organizzazione sulla programmazione del TPL è in capo agli enti locali come enti locali anche qualora non fossero soci di TEP e di SMTP quindi ha maggior ragione quello che succede oggi che succederà penso anche domani è che va in gara un servizio che dice che l'uno va dalla villetta alla stazione faccio un esempio semplice per questo servizio il soggetto gestore percepisce X euro a chilometro dopodiché possiamo cambiare di qualsiasi cosa le frequenze le estensioni le restrizioni eccetera non le può gestire non le può decidere il gestore ma questo all'ilà che i soci di SMTP di TEP siano il comune della provincia non li potrebbero decidere comunque mi viene da dire che questo lo decide e deve ordinarle le modifiche SMTP a TEP SMTP però è agenzia degli enti locali e quindi è un collegamento di questo tipo che ha funzionato finora e che sicuramente continuerà a funzionare anche dopo Sì grazie allora mi sembra di capire che rispetto alla gara precedente in realtà sia cambiato o si cambi solo ed esclusivamente il prezzo base di fatto perché il doppio oggetto le clausole che eventualmente verranno poi inserite nel bando saranno immagino le stesse io credo che la cosa che interessa di più a tutti a tutti noi come rappresentanti della comunità locale sia quella di certamente migliorare il servizio certamente avere un apporto di capitali certamente un apporto di competenze e senza voler fare le nozze coi fichi secchi avere anche però una politica tariffaria che in un qualche modo vada incontro a quelle che sono le esigenze attuali del nostro territorio e soprattutto anche visto che stiamo parlando per detta proprio anche del presidente di una società e di un'azienda primaria nel nostro territorio che ha sempre direi eccelso nel panorama complessivo del trasporto pubblico locale anche una tutela nei confronti dei dipendenti almeno in questa fase iniziale prevedendo nel bando stesso delle così non dico delle garanzie ma comunque insomma delle facoltà o un potere decisionale da parte degli enti locali in ordine anche sia alle politiche tariffarie che alle politiche anche dei dipendenti io non so come questo potrà combinarsi con l'ottimizzazione delle offerte in sede di gara però comunque sono due elementi che dal mio punto di vista dovrebbero essere in un qualche modo preservati o tutelati ecco se mi permette sono d'accordo nel senso che i principi che ha enunciato erano quelli che ci hanno guidato anche nella scelta tutti questi aspetti noi li andremo a valutare poi in questo primo periodo soprattutto in cui definiremo quelli che sono i criteri della gara avremo poi sulla scorta l'esperienza di quella che è andata precedente deserta quindi potremo per così dire limare o comunque agire su quegli aspetti che secondo chi c'era prima io non c'ero però loro hanno partecipato e hanno vissuto tutte le fasi di predisposizione di questa gara e quindi avvantaggiarsi di queste esperienze insomma mantenere quegli criteri che sono validi per valorizzare quello che è il personale e migliorare l'efficienza del servizio e insomma stabilire il valore in funzione di quelle che sono le reali possibilità di rendere appetibile questa offerta al socio privato non so se l'avete già detto la durata prevista della gara qual è? 7 anni con la possibilità di rinnovo per il 50% quindi 3 anni e mezzo 7 più 3 e mezzo chiedevo non so se ha una un'incidenza oppure no il fatto della prima era certa ora è solo possibile unificazione delle due province di Parma e Piacenza con il discorso che sul territorio piacentino c'è un'altra azienda di trasporti in quale modo dal momento che oggi il provvedimento è sospeso ma nulla ci dice che domani non venga ripreso è stato in qualche modo preso in considerazione può andare a incidere sulla gara a vista la tempistica anche perché dopo 7 anni sono lunghi non ho certezze in merito non penso allora la situazione è quella che però è stata enunciata oggi probabilmente leggo dai giornali come penso ma voi avete anche altre informazioni che questa unificazione di province per quanto riguarda per esempio l'Emilia Romagna nel nostro caso Parma e Piacenza verrà comunque interrotta perché non diventerà legge dello Stato e quindi e quindi noi io non sono in grado di dire io ho la certezza di questo che noi non siamo più nelle condizioni di poter rimanere fermi ecco cioè come nostro aspetto locale di condizioni contrattuali attuali di TEP eccetera qui noi dobbiamo procedere poi se nel frattempo succederà qualcosa d'altro ne prenderemo atto ne prenderete atto e direte a noi eventualmente eventuali modifiche eccetera ma nulla modificandosi ad oggi la regione Emilia Romagna poco tempo fa ha ridefinito prima di deliberare sugli accorpamenti delle province poco prima ha ridefinito degli ambiti diciamo bacini ma adesso li ha chiamati ambiti non so per quale motivo ma comunque i bacini dove si svolge il servizio di TPL se prima erano tutti coincidenti con le province in questo delibera regionale sono state accorpate in maniera differente allora che poi va di pari passo col processo di aggregazione che è avvenuto in altre parti della provincia che se volete velocissimamente vi illustro la Romagna sta facendo una holding unica come società di gestione e andrà dovrebbe andare diciamo così ad un'unica società di gestione della Romagna quindi una Bologna e Ferrara stanno facendo lo stesso percorso anzi hanno fatto lo stesso percorso TIPER la nuova società in cui è confluita la FER è una società di grosse dimensioni ha come ambito la regione come ambito ha individuato Bologna e Ferrara pur nel progetto di province essendo Ferrara provincia autonoma però quella decisione delle province è avvenuta dopo a questo che le sto dicendo Modena Reggio è stato determinato un unico ambito Parma un unico ambito e Piacenza un unico ambito quindi ad oggi la situazione è questa certo che se si fosse verificato attuato la fusione tra le province di Parma e Piacenza però a meno di provvedimenti straordinari regionali comunque noi rimaniamo per adesso siamo un ambito a sé stante come DPL e Piacenza è un ambito a sé stante quindi dovremmo vedere un attimino come si svilupperanno eventualmente le cose se non ci sono altre domande io sì prego non direttamente interessata per questa delibera ma visto che ne ha parlato c'è un discorso di tariffazione attualmente a chilometro per farsi pagare il servizio pubblico locale volevo sapere se c'era la possibilità una valutazione ma magari questo potrebbe essere fatto anche in seguito invece di farsi pagare in base alle persone trasportate è chiaro che ci sono interessi differenti è più facile fare i conteggi al chilometro piuttosto che alle persone trasportate diciamo che secondo la logica se io devo andare a pagare secondo le persone trasportate le aziende cercheranno di fare dei mezzi pubblici che raccolgono il maggior numero di persone per farsi pagare di più e quindi rendere più efficienti le tratte però questo qui contrasta con altri aspetti questo è chiaro però voglio capire se era possibile comunque prevedere un altro tipo di tariffazione oppure vincolante attraverso le normative nazionali o europee non mi sembra che oggi sia possibile stavo riflettendo un attimo perché non mi sembra che oggi sia possibile questo tipo di votazione che poi ha in un servizio trasporto pubblico locale ha comunque quello che già lei diceva cioè questa difficoltà a confermare l'aspetto pubblico perché se si trasporta la gente dove c'è e dove ce nemmeno si trasporta meno con mezzi pubblici che già viene comunque però si garantisce oggi una presenza di servizi diffuso su tutto il territorio per Parma potrebbe valere per le frazioni ma ovviamente molto di più vale per le zone perimetrali della provincia cioè sia le zone rivierasche del Po che quelle montane noi oggi abbiamo però devo dire con la data sincerità che noi ormai oggi abbiamo in alcune zone le più le meno densamente popolate un servizio che va pochissimo oltre il servizio scolastico cioè il dare agli studenti a ragazzi che frequentano le scuole pubbliche non più quelle sempre dell'obbligo o insomma le scuole superiori tanto per intenderci la possibilità di recarsi a scuola in alcune zone del territorio c'è poco 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 in più di questo quindi direi che è già un servizio abbastanza abbastanza asciutto da questo punto di vista dopodiché in Gran Bretagna a Londra era possibile non so se l'è ancora ma sicuramente l'è stato possibile da parte di chiunque mettere degli autobus su dei percorsi che ovviamente li mettevano sui percorsi fortemente frequentati e con tarifazione libera con orari eccetera a fare tutto quello che volevano questo in Italia oggi non è possibile il TPL in Emilia-Romagna ma penso che in Italia è un servizio in esclusiva i decreti sviluppo Italia prevedevano una verifica di queste condizioni cioè una verifica del rapporto chilometro passeggero e diceva di avvantaggiare o di privilegiare queste questioni poi quello è stato abrogato dalla Corte Costituzionale eccetera però la liberalizzazione tendenzialmente va sicuramente in quella direzione perché rende un servizio laddove c'è necessità io e qua lo dico assolutamente ancora una volta a livello personale penso che un servizio se è pubblico deve garantire almeno un minimo di collegamenti di possibilità di movimento a tutto il territorio ma questa è una mia valutazione che vale poco no preciso il mio intervento perché il mio è assolutamente a sostegno anche dei punti distanti dal capoluogo perché nel trasporto pubblico generale quindi non solo il pubblico ma anche il privato vediamo che la mobilità all'interno della provincia è dalla dalla provincia al capoluogo e dal capoluogo alla provincia è chiaro che se io vado a pagare adesso la dico in maniera brutale la TEP che faccia tot chilometri e la TEP lo fa nelle fasce orarie che interessano a lei perché dice vabbè tanto io chilometri li ho fatti no ma nel discorso degli orari molti cittadini della provincia si lamentano perché vorrebbero più corse maggiori corse in determinate fasce orarie e magari eliminarne o ridurne altre era questo il discorso quindi poter incrementare quel tipo di contrattazione per favorire un maggior servizio in determinati orari che non sono soltanto quelli scolastici ma anche quelli lavorativi che purtroppo sono carenti sono carenti anche per i tagli che fanno i governi e a cascata dalle regioni come diceva lei all'inizio però cercare di creare la tra virgolette fame della società che gestisce il servizio per andare a verificare puntualmente quali possono essere quelle fasce orarie quelle tratte che possono rendere di più in base ad altri parametri e non meramente della tariffazione a chilometro perché faccio tot chilometro e quindi tanto incasso quello e non mi interessa tra virgolette quante persone salgono sull'autobus io il servizio l'ho garantito e prendo in base al chilometro volevo stimolare questo tipo di ragionamento allora prima di tutto una notizia che non è ancora uscita nel dibattito nel senso che allora non è è vero in parte quello che facendo chilometri comunque vi è un corrispettivo che noi riconosciamo e quindi ok però TEP direi in tutta la regione grosso modo penso che in altre parti d'Italia non sia così ricava cioè copre i suoi costi con circa il 65% con la contribuzione pubblica cioè tramite SMTP e il 35% con la bigliettazione quindi anche lei ha maggior interesse ad andare a svolgere servizio dove c'è maggior utenza perché incassa biglietti quindi è un servizio che TEP ha anche l'autonomia cioè a lei è delegato non la decisione della tariffa ma la discussione l'emissione del titolo di viaggio e la discussione del titolo di viaggio quindi anche lei ha questo interesse poi comunque gli orari le frequenze i percorsi eccetera come dicevamo prima sono di competenza non di TEP poi è altrettanto vero che fino ad ora nella società pubblica si prevede che rimanga maggioranza pubblica e è stato esaspero il concetto per cercare di spiegarmi i periodi di punta di morbida esistono già anche adesso in periodi di punta ci sono bis ci sono altri autos i periodi di morbida sono sicuramente meno frequentati però è una una questione di tipo organizzativo gestionale che se si sa sperasse probabilmente porterebbe anche degli aumenti di costi all'azienda e non delle diminuzioni però io penso che questo non penso sono sicuro che decisioni di questo tipo competono agli enti locali ai soci e non a TEP e quindi sono liberi di farlo certo che poi hanno un riverbero anche sul bilancio della società perché vuol dire avere più persone c'è poco da fare perché se io dalle 12 alle 14 offro ancora di più servizio che mi sembra comunque che sia soddisfatta l'utenza oggi perché TEP ha come contratto che se non è soddisfatta l'utenza deve mettere dei bis certo magari sono auto più carichi che non nell'altro periodo in generale non compete a TEP la decisione su queste cose comunque compete a SMTP in base ai mandati che gli danno gli enti locali niente allora se non ci sono altre domande chiusa la seduta delibero scusa una considerazione più che una domanda non l'ho mica vista non è un problema in virtù di quello che diceva l'architetto prima allora considerato il fatto che il trasporto pubblico è tipologicamente in perdita lei l'ha detto 65% contribuzione pubblica 35% assorbito da questo lo sappiamo già quindi le obiezioni che faceva Gnozzi non le condivido per questo la mia preoccupazione è senz'altro quella di vedere ma non è oggetto di questa delibera come andrà l'andamento dei prezzi e assolutamente di monitorare il servizio così come voi avete detto sarà oggetto comunque di osservazioni future e l'attenzione mai mancherà da parte di questo consiglio proprio perché la tutela deve essere data alla collettività su tutto il resto oggi parliamo di una delibera che entra nel merito specifico di una gara quindi atteniamoci al testo e verifichiamo poi a posteriori più avanti quando sarà il momento di tutto il resto la preoccupazione è ovvio che sia quella di tutela della collettività va bene allora adesso possiamo licenziare la proposta di delibera e dichiaro chiusa la seduta grazie grazie